Ma questi quanto tengono? Tengono, tengono. Ma no, sono 3 centimetri di no preme. Più che altro si accorge che sono guanti e cerca la pelle. Sì, tanto con tutto il vento. Mi tengono, tengono. Vabbè. Ti ripori tu? No, fa uguale, fa uguale. Vedete. Dai. Girate in giù e potete aprirlo tutti e due o solo uno. Eccoci qua. Adesso mi lasciamo rigurare sul patto questa. E che ti fa? Guarda, guarda. Eh sì, le balle che entra lì dentro. No, ci entra, dai, tu non l'hai mai vista. Calma. Non so ancora che cos'è. Certo, certo. Non leccare. Non è comunissima. Com'è? Io non. Inizio. Fiega, Marco. Non vuoi riportare. 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 Dai. Vabbè. Quattro, Marco. Pattesco. Ma tu stai filmando. se non vi eravate già laureati questo qua veniva utilizzato questo formato Marco non è la mia lo aprite anche da sopra magari lo spingete giù però ti fai anche sì se avete un altro paio di guanti però perché stai attento a che non esco da lì scusa ma a me lo fai uscire prenderlo i guanti se ce la fai ma adesso è una belva ma nei casi di emergenza non avete un paio di guanti un tubo? sì sì eccolo che parte sta già rinchiando? spingi come si fa con i passatelli? sì guarda lo spingi si blocca deve stare stretto spetta che lo vengono un prerino così non si va bene non rompetemi il gatto via adesso c'è anche così una gabbia di contenimento e la prossima volta grazie 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 grazie